Ben ritrovati dagli studi di Torino e Canavese TV, terza edizione quotidiana del nostro telegiornale mercoledì 4 di aprile, iniziamo purtroppo con una notizia tragica di cronaca Beatrice Inguì, una studentessa di 15 anni di Rivoli infatti è morta questa mattina alla stazione di Torino Porta Susa dopo essere finita sotto un treno regionale la giovane era insieme ad altre compagne e a un insegnante, si stava recando al liceo musicale di Vercelli dalle prime indagini pare che il gruppetto fosse a ridosso dei binari e che lo zainetto della ragazza sia stato agganciato da una delle vetture del treno trascinandola tra le rotaie l'incidente è accaduto al binario 4, immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza da sotto il treno del 118 che a lungo ha provato a rianimarla sulla banchina ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, la ragazza è morta durante il trasporto in ospedale e intanto è stata presa dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale di Torino all'unanimità proprio in segno di lutto per la morte della studentessa di Rivoli la decisione di annullare la cerimonia di inaugurazione e intitolazione del Ponte Unione Europea che collega Corso Matteotti e Via Cavalli e che era prevista per domani giovedì 5 alle 12.15 e sconcerto anche nelle Porediese per la morte di Paolo Macri di Chiaverano stroncato da un'emorragia cerebrale a soli 29 anni Paolo era uno chef molto noto, aveva lavorato alla Panigaccia attualmente lavorava da Ocio in Corso Nigra ad Ivrea il giovane è morto nel sonno la notte di Pasquetta è stata la sua compagna a chiamare i soccorsi quando si accorta che il respiro di Paolo si stava facendo sempre più affannoso a nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimazione dei volontari dell'ambulanza e delle del soccorso che sono giunti subito sul posto soltanto un anno fa un'altra tragedia aveva colpito la sua famiglia infatti il papà Giuseppe dipendente dell'impresa Mattioda era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in Alta Valle di Susa e avevano raggirato tra gli altri anche due vedove di Castellamonte di 73 e di 89 anni spacciandosi per tecnici del gas massaccheggiando poi le loro abitazioni utilizzavano un garage di Orbassano come camerino per indossare i costumi di scena con cui mettevano a segno truffe e furti due uomini di 28 e 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Venaria all'interno del magazzino i militari dell'arma hanno trovato, la vedete una Fiat 500 trasformata in auto civetta simile a quella in uso alle forze di polizia con tanto di sirena e di lampeggiante qui era stata applicata una pellicola autoadesiva di colore grigio e ovviamente una targa contraffatta sequestrate anche quattro radio ricetrasmittenti due parrucche, una casacca di colore grigio una catarifrangente di colore arancione, un cartellino riportante la scritta ispettore controllo gas metano, un flessibile e anche diversi attrezzi atti allo scasso inoltre tre bombolette di spray urticante un chilo e mezzo di monili d'oro del valore di circa 25 mila euro quasi 2 mila euro in contanti e 407 dollari americani proprio il giorno dell'arresto la coppia aveva realizzato le truffe con furto in abitazione e i danni delle due vedove di Castellamonte e un giovane di 25 anni si è tolto la vita impiccandosi nel bagno del negozio che aveva aperto soltanto due mesi prima in via Pietrocossa a Torino nei pressi di corso Regina Margherita lasciando una lettera che spiega le ragioni del suo tragico gesto scusatemi ho fatto delle scelte sbagliate la fidanzata allarmata perché il ragazzo non le rispondeva al telefono ha chiesto aiuto ha fatto intervenire i vigili del fuoco che hanno aperto la porta del negozio e hanno fatto la scoperta cambiamo decisamente argomento lasciamo la cronaca la società si chiama Icona il progetto è The Future is Back Home un anno di lavoro, 12 soci e un'ambizione quella di fare della fabbrica di mattoni rossi di Ivrea là dove è nata Olivetti il centro di una innovazione sociale che è l'espressione moderna di quella che è stata proprio la filosofia dell'Olivetti un po' come farla rinascere ai giorni nostri The Future is Back Home è un progetto non è solo l'acquisto di un immobile è molto di più sì, è un progetto per il nostro territorio è un progetto di riqualificazione della fabbrica di mattoni rossi che non vuole sicuramente essere una progettualità di acquistare un immobile ma vuole fare in modo di inserire nella fabbrica di mattoni rossi delle esperienze e dei progetti che guardino al futuro riteniamo che Ivrea possa essere ancora attrattiva per l'Italia e anche per il mondo nello sviluppo di quella che viene definita nei giorni nostri la social innovation cioè come si andrà a modificare nel breve tutto il tema del lavoro dell'impresa, dell'imprenditoria rispetto al fatto che siamo di fronte delle innovazioni tecnologiche che saranno dirompenti la cifra che per noi è stata l'esperienza Olivetti cioè innovazione, tecnologie e valori sociali crediamo che siano dei temi fondamentali di cui si dovrà occupare la convivenza europea nei prossimi anni e riteniamo che su questa Ivrea possa essere riconosciuta come un luogo dove delle esperienze ci sono state e possa in qualche modo guardare al futuro e quindi essere un qualche cosa che attiri imprese tre attività sul nostro territorio per cercare di costruire un progetto che sia un progetto di sistema che guardi convintamente avanti Oggi presentate questo progetto ma ci lavorate da un anno e ci sono già 12 realtà IG e altre 11 che hanno aderito quasi di pancia insomma perché credono in questo progetto al di là di quello che sarà il suo sviluppo Sì, oggi presentiamo Icona perché noi comunque abbiamo raggruppato ad oggi 12 realtà imprenditoriali di questo territorio che si sono messe insieme altro valore che noi riteniamo fondamentale mettersi insieme per guardare avanti sotto AIG che fa da capofila riprendendo un po' quali erano le file della sua storia ma per raccogliere le risorse finanziarie di competenze, di relazioni che sono necessarie per fare in modo di sviluppare un'ipotesi progettuale Noi abbiamo già fatto alcuni passi che ci hanno portato ad acquistare la fabbrica di mattoni rossi adesso si tratta di costruire bene tutti i contenuti che lì all'interno si svilupperanno perché pensiamo che solo i contenuti possono essere la ragione per la quale qualcuno potrà essere interessato a venire a Livrea a sviluppare dei progetti Facciamo un esercizio che a volte si fa che non è solo un esercizio Camillo e Adriano Olivetti vedendo che la loro fabbrica di mattoni rossi rinasce nel segno dell'innovazione sociale che era un po' il nervo della loro concezione di impresa che cosa direbbero oggi? Io penso che sia una sensazione positiva io rappresento in questo momento la cooperativa EG che dobbiamo dire nasce nel 1901 ancora prima del 1908 primo socio Camillo Olivetti e quindi l'idea di guardare avanti e di capire quali potessero essere le attività che possono diventare importanti per il futuro sia la cifra della Olivetti e quindi ritengo che la reinterpretazione di questa prospettiva ci possa in qualche modo ancora guidare per il nostro futuro riteniamo appunto che lo sviluppo di questi progetti non sia in un'ottica museale di conservazione perché riteniamo che non sia quella l'elemento importante ma sia proprio cercare di reinterpretare un'esperienza che qui si è sviluppata perché possa e riteniamo che lo sia già possa in qualche modo guardare al futuro e alle innovazioni che noi ci troveremo ad affrontare sia in ambito imprenditoriale che in ambito sociale che sono state diciamo il cuore dell'esperienza livettiana Nelle prossime edizioni del nostro telegiornale entreremo più nel dettaglio del progetto e vedremo anche quali possono essere le fonti di finanziamento ma per chi volesse approfondire già l'argomento l'intervista completa la troviate già sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube ma come oggi l'interno della fabbrica di mattoni rossi lo vediamo in questo bel video che è stato realizzato nel quadro dell'alternanza scuola lavoro dagli studenti della terza B del liceo Gramsci di Ivrea nell'anno scolastico 2016-2017 e che racconta con musica e immagini il primo insediamento industriale eporediese della Olivetti di un'altra di un'altra di un'altra Grazie a tutti. 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 Buon seguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.